È pronto per il lancio il progetto provinciale Cric, comunità in rete per il cibo, che dal 5 giugno vedrà ufficialmente la luce con la sua prima azione proprio sul territorio casalasco attraverso una raccolta alimentare nei diversi supermercati cittadini. Cric è un progetto che mira a migliorare la capacità e la qualità della risposta alla povertà alimentare negli ambiti sociali di Cremone e Casal Maggiore, come ha spiegato Sara Pisani, presidente del Circolo Acri di Casal Maggiore. Si tratta di una progettualità su due anni, promossa dall'associazione No Spreco di Cremone e finanziata da Fondazione Cariplo. Il Circolo di Casal Maggiore, assieme all'associazione Le Aquile, è partner del progetto per il casalasco e promuove questa prima azione assieme all'Istituto Romani e ai collaboratori davvero d'eccezione. Protagonisti della raccolta alimentare saranno infatti una trentina di studenti olandesi in arrivo in questi giorni a Casal Maggiore per partecipare a un progetto Erasmus, che saranno accompagnati dagli studenti della prima liceo classico del Romani e da alcuni docenti. Abbiamo aderito alla proposta del Circolo Acri di entrare a far parte della progettazione CREIC, spiega la dirigente scolastica del Romani Daniela Romoli, perché crediamo sia importante sensibilizzare e promuovere la cultura del valore del recupero del cibo e diffondere tematiche di educazione alimentare al fine di indirizzare le giovani generazioni a un consumo consapevole e dunque equilibrato. La raccolta si terrà lunedì 5 giugno dalle 9 alle 12.30 nei supermercati aderenti. Mercoledì 7 giugno invece i ragazzi parteciperanno insieme ai volontari della locale San Vincenzo De Paoli alla formazione dei pacchi alimentari e alla loro distribuzione, un'esperienza unica all'insegna della solidarietà. Per non parlare dei militari che hanno conteggiato... Grazie! Grazie!